Passo Bezzena, Trentino. I Sambugaro di Professione Boscaioli, fratelli e soci in affari, sono solo due, ma lavorano per cento. La tecnologia e la loro arma sono Boscaioli 2.0. Mi chiamo Michele Sambugaro e faccio il Boscaiolo di Professione. Siamo io e mio fratello Giorgio. Grandi investimenti per macchine performanti. Mi chiamo Giorgio Sambugaro. Ho cominciato a lavorare con la cetta in Boscaioli. Dopo le cose sono cambiate. La cetta adesso la usiamo soltanto per picchiare i cunei durante l'abbattimento. Noi ci mettiamo l'anima quando facciamo il nostro lavoro. Se noi due andiamo d'accordo, siamo una potenza. Sono circa 10-12 ettari. L'area di lavoro dei Sambugaro copre una vasta zona. Le stime sono molto più basse rispetto a quello che in realtà è andato giù. Tanto da non sapere quanti siano i metri cubi reali. Le due lotte che stiamo facendo adesso siamo già passati abbondantemente i 3.000 metri cubi e non abbiamo ancora finito. Per mettere a posto tutto l'altipiano ci verranno anni. È un'azienda piccola, diciamo, come numero. Veloce, fa freddo! Però grande come macchinari, come attrezzature, come quantitativi che riusciamo a fare. Questo è questo! A fine giornata la soddisfazione più grande è vedere una tasta di legname fatta bene. Questi due qua! I due e noi con queste macchine penso che facciamo il lavoro di 20 persone che lavorano a mano. Sicuramente. Undercut, l'oro di legno. In prima tv assoluta da martedì 11 giugno alle 22.20 su D-Max. Canale 52.